Il convegno a livello delle presentazioni e una valutazione scientifica è stato di buon livello, abbiamo sentito degli interventi interessanti e di nota. La partecipazione è stata molto ampia, credo che tutti abbiano tratto importanti notizie e le aziende anche spunti per proseguire la loro attività di sperimentazione. Per quanto riguarda le parti più espositiva, abbiamo registrato una buona affluenza da paesi del Sud e Centro America, Asia, Europa. Abbiamo avuto buoni contatti, abbiamo preparato tra l'altro del specifico materiale chiaramente per questo target di mercato. Abbiamo rivisto la nostra immagine dei biostimolanti per renderli armonici nel senso del loro impiego, anche della fruibilità da parte del cliente perché sono prodotti molto tecnici. La sfida è stata di fare una comunicazione completa e comprensibile dagli utilizzatori.